Sono oltre 20.000 i biglietti venduti per la gara di domani al San Nicola contro la Juve Stabia. La partita arriva dopo il colpaccio esterno dei galletti a Terni e si disputerà 48 ore dall'asta giudiziaria per la giudicazione del ramo sportivo dell'AS Bari fallita, prevista per lunedì 12 maggio. A Bari cresce l'attesa per la prossima sfida dei Biancorossi contro i Campani, tanto che la società azzarda che si possa battere il record di biglietti venduti in Serie B, fatto registrare proprio dal Bari nella gara contro il Latina del 17 aprile scorso, con 32.528 spettatori paganti. Intanto, ieri pomeriggio, una delegazione di giocatori del Bari, inviata dall'Associazione Manitese di Modugno, ha fatto visita al reparto di oncoermatologia pediatrica del Policlinico di Bari nell'ambito dell'iniziativa Festa della Mamma, in corsia San Nicola tra i bambini ammalati. Sottoscritta anche una partnership tra AS Bari, Master Group Sport e la Medical Tools, nota azienda barese specializzata nella fornitura di apparecchiature elettromedicali per la fisioterapia e la riabilitazione.